La Televallo SRL, titolare dell'impresa a fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale, denominata Televallo, informa che tende a diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per le elezioni della Camera dei Deputati del Senato della Repubblica, prevista per il giorno 25 settembre 2022. A tal fine informa altresì che presso la propria sede, ubicata in Mazzara del Vallo, via Antonio Segni X, indirizzo di posta elettronica certificata televallo-pec.it, indirizzo di posta elettronica televallo-virgilio.it, numero telefonico e fax 0923 56 43 33 e depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente le condizioni temporali di prenotazione degli spazi presudetti messaggi politici autogestiti a pagamento con l'indicazione del termine ultimo mentre il quale tali spazi possono essere prenotati, le modalità di prenotazione dei suddetti spazi, le tariffe per l'accesso ai suddetti spazi quali autonomamente determinate dalla Televallo SRL, ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione dei suddetti spazi. Per qualsiasi altra informazione non contenuta nel presente avviso ci si può rivolgere al signor di Luvio Francesca al numero 0923 56 43 33 oppure al numero 347 64 94 279.